Ben trovati da Giovanni Pimpinelli, oggi è il giorno della gara 2 dei quarti di finale playoff tra Stemar 90 e Petriana E il FIA! Ancora la balla contro il football, Matthew, football, si sblocca la situazione Nicola Casperini, il tiro di Forgione, alza molto la balla, la mette dentro, la bomba da parte di Forgione Castani e Campogiani, i due scivoli per la manata, che balla dalla distanza, Matthew, ball, che tiro che ha fatto, un tiro clamoroso Per spada, Pezzi, tenta la tripla, Leonardo, Pezzi, la Stemar raccoccia, a meno uno la Stemar 90 Va lì, Forgione, Ferradese contro Pezzi, le braccia di Pezzi, Fuku, va il tiro dentro, il canestro di Joel Fuku Forgione all'arca a sinistra per Scappini, Scappini, trova la bomba, dentro, Scappini, che inizio di partita per Scappini C'è Bottone, Luca, Bottone, all'ultimo secondo, la bomba di Bottone, 32-31 E' solo Fuku che la scaccia, ma quanto spazio per Fuku, risulta la Petriana Andrea Campogiani, il capitano con la valutina, numero 4, iniziale di questa azione, verticale per Luca Bottone, un canestro uguale a quello che ha fatto in gara 1 Pebol, tiene il pallone molto bene, Cattaneo, la stampa e faccia Cristian Cattaneo su Ferradese Il canestro di Cristian Cattaneo, 38-38, pareggio da Stemar 90 Cattaneo, Cristian Cattaneo La Stemar va a più 4 Fuku, dalla distanza, va dentro, grandissimo canestro di Joel Fuku Forse all'uno contro uno, Morrison, spalla a canestro, Morrison, Morrison, Maxwell, Morrison, canestro a tiro libero, il pallo di Gasperini Scivola a Vero, scivola a Cattaneo, scivolano tutti in questo momento Ha un calcio saponato in questo momento qui alla palla Petriana, per questo Di Fuku, Joel Fuku Il ventello, da parte di Joel Fuku Palla per Amargo, sono dopo il passaggio di Pebol, ho già vincenzo a spazio dietro, ma mette, ma mette Peopalla con la bomba Battiu, Pebol, meno uno della Stemar 90, il quindicesimo punto, da parte di Matthew Peopalla La Stemar 90, la Stemar 90, fa il vantaggio nel momento Morison, 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 avanza Morison, Baxway, Morison, che cosa ha fatto Morison? Riccardo a Stemar 90, 61,57, che giocata sottuosa, ma perché gioca in serie 5 gol questo giocatore? L'ha messo dentro, ha volato via, Cecchini va a fare i complimenti a Cosce Pazzi, De Maria, abbraccia a Cosce Pazzi Due secondi, un secondo, e Alba la Pedrana è finita! La Stemar 90 batte la Pedrana, 65 a 57, e si qualifica alla semifinale playoff di questa campionata di Serie 5 gol Grazie! Grazie!